Movide inciviltà è il tema ormai sulla bocca di tutti all'Aquila. Le esigenze di divertimento di giovani e meno giovani, quelle dei gestori di locale e dei residenti, pare sempre più difficile trovare un punto comune di collaborazione. L'apertura arriva proprio dai gestori, che non ci stanno ad essere aditati come responsabili dell'inciviltà di alcuni, che mettono la città a ferro e fuoco, a volte lasciando rifiuti in ogni dove dopo le serate. A scrivere una lunga lettera aperta alla città è stato Matteo Maurinaz, che è un locale vicino al Maxi, in piazza Regina Margherita, spesso al centro delle polemiche dei residenti. Superando logiche di divisione, il gestore ha fatto appello alla collaborazione, con toni distensivi e maturi. Da parte loro fa presente, nonostante la mancanza di servizi igienici più volte chiesti o di cestini, cercano per quanto possibile di mantenere la piazza pulita, organizzando anche eventi ad arricchire la rinascita di questa piazza che ospita un museo meta di tante visite. I gestori, insomma, sono pronti a collaborare per cercare di rendere la città viva ma vivibile per tutti. È vero che la Movida, sicuramente, soprattutto qua a Santa Maria Paganica, è stata portata maggiormente da noi, ma il contesto sociale che abbiamo cercato di creare, soprattutto creando una situazione un po' più confortevole per gli ospiti, è sicuramente un pubblico più adulto, ma soprattutto un pubblico più degno di questa piazza e comunque sia una delle più belle dell'Aquila. Quindi il problema che si crea non è tanto del locale nostro o dei locali in sé, è proprio il fatto dei ragazzi che tra i suoi mercati o quant'altro portano ancora bottiglie in giro e via dicendo. Poi l'indecenza umana, ma che sta in ognuno di noi, dobbiamo cercare di limitarla. Quindi l'appello che si fa con questo articolo è proprio il fatto di sensibilizzare tutti quanti, noi aquilani, dai ragazzi ai più adulti, avere un po' più di senso civico, quindi di creare meno disagio sia a noi attività e soprattutto ai conquilini che abbinano in queste zone, che sia Santa Maria Paganica, che sia Giazza Ierino, ma qualsiasi cosa, anche Piazza Duomo stessa. Quindi il fatto è questo, è più una richiesta di aiuto da parte di tutti quanti. C'è la famosa vicenda delle formiche, no, una formica è soltanto una formica, ma tutte quante possono spostare la montagna. Quindi cerchiamo di darci una mano per poter far sì che tutti quanti stiamo nel quello vivere e magari anche le amministrazioni ci lasciano spazio per poter esibire spettacoli e anche divertirci. Perché comunque sia, sì, ok, Covid sembra che sta per finire tutto quanto, però ragazzi un po' di coscienza per tutti quanti noi di certo ci permetterà anche di affrontare un inverno più sereno.